Il risultato è per me bugiardo ma lo è soprattutto per un errore arbitrale a mio avviso molto grosso. Quando si è fatto male Weiss il fallo era di Stendardo che era già stato ammonito e quindi doveva uscire. Chiaro, seconda ammonizione Stendardo doveva uscire e invece ci siamo trovati che loro sono rimasti in 11 e è uscito il nostro giocatore per infortuni. Quindi qui quest'errore ha condizionato secondo me anche il resto della partita. La differenza l'ha fatta che l'Atalanta ha sfruttato le uniche occasioni che gli sono capitate e noi diciamo anche noi oggi perché quelle che abbiamo prodotto alla fine siamo riusciti a fare il gol. Per cui la differenza c'è stata solamente nel numero dei gol. I portieri oggi sono stati abbastanza a riposo. Purtroppo per un risentimento muscolare agli adduttori noi la partita l'avevamo preparata per cercare di giocarcela. E quindi devi cominciare a giocartela dai tuoi difensori, dal possesso di palla eccetera. E' ovvio che mentre nel primo tempo lo abbiamo fatto abbastanza bene anche forse calvanizzati dal gol eccetera quindi siamo riusciti a farlo abbastanza bene con l'uscita di D'Agostino abbiamo perso un po' nel palleggio. E poi perché probabilmente la squadra si è ritirata troppo anche per la pressione dell'Atalanta che è chiaro era in svantaggio e doveva recuperare. Quindi era ovvio che ci ritirassimo un po' indietro. Non così perché dovevamo farlo molto di meno e magari cercare di continuare a giocare come avevamo fatto il primo tempo. Però come giustamente hai detto noi abbiamo dei giocatori che rientrano dopo mesi di inattività per cui qualche problema a livello fisico è chiaro che uno lo avverte. C'era una volta un grosso allenatore che diceva allenatore scivoloso, sempre pericoloso. E' ovvio che la scivolata comporta spesso che puoi incorrere nel calcio di rigore. Il nostro giocatore probabilmente era già partito per farlo e non si è accorto che eravamo andati ovviamente di due persone esperte che sono venute a darci una mano e che quindi chiaramente sono state investite di questa fascia da capitano. Non ha altri motivi insomma.